Musica Poi dormiamo in due stanze, ma con la testa frantumiamo le pareti. Se solo sapessi dire le cose che ho da dire, se solo potessi dire le cose che ho da dire. Bene ragazzi, stamattina io non c'ero, sono le 18, è venuta una band a presentarsi, ha fatto tutta da sola perché purtroppo come vi ho appena detto io non c'ero. Sono in compagnia della nostra bellissima Rossella, ciao Rossella. Salve a tutti, salve a tutti. Componente del nostro staff che darà vita a Lavica Rock 2017, io intanto vi presento Icaleido. In questo momento siamo in tre, Giovanni Torre, Sascha Santonocito e Gabriele Ricciardello. Gli altri due ragazzi sono Alessandro Sambataro e Domenico Cuaceci. Quest'oggi siamo qui per presentarci e per far sì che voi ci votiate, in un certo qual senso, perché stiamo facendo il Lavica Rock, un festival che a Catania non abbiamo mai fatto e che quest'anno avevamo il piacere di fare. Manteniamo le distanze I tempi non sono favorevoli Poi dormiamo in due stanze Ma con la testa frattumiamo le pareti Se solo potessi dire Le cose che ho da dire Se solo sapessi dire Le cose che ho da dire Spero abbiate capito che siamo una band inedita, che fa musica inedita, che possiamo definire una sorta di pop rock, più o meno, molto a larghe linee. Non ci piace la definizione di pop rock Diciamo che facciamo musica originale per noi Nel senso che ci speriamo a tanti, ma in realtà allo stesso tempo ci speriamo a pochi Scriviamo Digetto, per la maggior parte dei testi li scrive Gabriele, il chitarrista E poi li componiamo tutti assieme Perché dovreste votarci? Intanto perché abbiamo gli occhiali da sole, due su tre, quindi già direi che Che non è per dare più carisma il sintomatico mistero, ma perché sono dieci e ci siamo svegliati mezz'ora Chi lo diceva sintomatico mistero? Battirato, battirato Dovete votarci perché oggi ci sono molte band che per carità hanno la passione della musica Ma poche band secondo me che hanno il sogno di lavorare con la musica Noi vorremmo fare questo nella vita e per fare questo abbiamo bisogno, nel nostro piccolo, anche di voi Noi vorremmo fare questo video